Alessandra Ricchi, sindaco di Tortoreto, non indietreggia dalle sue posizioni. Resta aperta al dialogo con il gruppo dei sei dissidenti e quali ricorda non ha mai negato nessun incontro. Il sindaco è tornato a parlare dell'argomento alla luce della nota diffusa sabato dai sei consiglieri ammutinati. Sedie rimaste vuote come vuote da diversi mesi erano le sedute di ogni tipologia di riunione di maggioranza indette, scrive la Ricchi. Incontri tematici soprattutto su argomenti di imminente scadenza, riunioni politiche come quella convocata i primi di marzo. Inviti a sentirci singolarmente, negando persino riscontri a mail, sms e via telefono. Il tutto terminato con due consigli comunali disertati, altrettante giunte in pari data e riunione di maggioranza sul bilancio nello stesso giorno. Un silenzio prolungato e preordinato, culminato in un atto di ammutinamento consigliare, le cui ragioni sostanziali e politiche programmatiche non mi sono state ancora rese note. Mesi di pretesti, impegni vaghi e ripetuti, laddove almeno si è ritenuto di giustificarsi, terminati in un'azione poco gratificante per la maggioranza tutta. Non la meritavo io e neppure la città che rappresento, scrive ancora la Ricchi. Forse sarebbe stato meglio dialogare prima, a tempo debito e nelle sedi opportune, la casa comunale. Non sono le due revoche a dover essere presi in esame, quanto le dinamiche comportamentali e l'agire amministrativo che hanno preceduto il disertato consiglio, causa dell'effetto sul quale oggi si vuole ricondurre e limitare superficialmente l'attenzione. Il sindaco vive e si divide, dice ancora la Ricchi, salvo impegni fuoricomune nei locali dell'ente, sempre disponibile e deputato per ruolo a condividere indirizzi ed obiettivi con i propri consiglieri ed assessori, verificando lo stato di attuazione dei compiti assegnati nella fiducia reciprocamente riposta. Fiducia che a seguito di quanto accaduto non può alimentarsi di proclami e intenzioni, ma di fatti ed azioni concrete per il bene non della mia persona ma del nostro paese. Ci si dichiara costruttivi dopo 30 giorni di completo assenteismo, dopo un incontro nel quale ancora una volta una parte del gruppo si è sottratta, di fronte ad un paese che però non si ferma e continua a camminare con le sue innumerevoli esigenze, difficoltà quotidiane da superare, bilancio da provare, imminente stagione estiva, e scadenze che delle beghe personalistiche e dei proclami se ne fa ben poco.